Buongiorno carissimi, bentrovati, buona festa dell'Immacolata Concezione a ciascuno di voi. Oggi è festa dell'Immacolata, però vorrei dire che è anche festa della disponibilità, la vorrei chiamare così, perché non soltanto troviamo la disponibilità di Maria nel dialogare con l'angelo, nell'accogliere le volontà di Dio nella sua vita, ma fin dalla prima lettura del libro della Genesi troviamo la disponibilità del Dio della vita a cercare l'uomo, a interagire con lui, a dialogare, a renderlo consapevole di quello che ha compiuto, ma nello stesso tempo un Dio convintissimo che maledice il peccato, maledice quel serpente che deve strisciare sul suo ventre polvere e mangerà per tutti i giorni della sua vita e c'è un annuncio di salvezza, c'è questo protoevangelo chiamato, dove dice Dio nel tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita, io porrò in nemicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe, questa ti schiaccerà la testa e tu la insedierai il calcagno, vuol dire che non può vincere il male sul bene, sì, puoi mordere e insediare il calcagno, una parte dura, subito guaribile, ma non ce la farai, è la donna che ti schiaccerà la testa. Nella visione cristiana qui l'immagine di Maria è della Chiesa stessa, le porte degli inferi non prevarranno contro di essa, ma è bello perché l'uomo chiamò sua moglie Eva, dice ancora la lettura, perché ella fu la madre di tutti i viventi, non di tutti i mortali, di tutti i viventi, è il Dio della vita, è il Dio della speranza, di quella speranza di cui per singolare privilegio Maria è stata preservata ad ogni macchia di peccato perché ha portato nel crembo Cristo e ha sperimentato e ha vissuto nella sua vita, prima di ogni altra creatura, i meriti della passione, morte e risurrezione di Cristo. Noi in estate con i battesimi della vita di Cristo siamo chiamati alla vita eterna. Maria, perché doveva essere degna madre del Salvatore del mondo, è stata associata ai meriti di Cristo, ecco perché poi festeggeremo anche l'assunzione in anima e corpo di Maria Santissima. In Cristo, dice San Paolo nella seconda lettura di oggi, tratta la lettera degli Efesimi, in Cristo Dio ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere santi e macolati di fronte a Lui nella carità, predestinandoci a essere per Lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della sua volontà, lode dello splendore della sua grazia, di cui ci ha gratificato nel figlio amato. E il brano del Vangelo che conosciamo molto bene, il brano dell'Annunciazione, è sottolineo come Maria è stata sì disponibile, di una disponibilità attiva non passiva. Non è detto, vabbò devo farlo faccio, ma è stata in grado di comprendere, di interagire, di dialogare, una disponibilità che si è data totalmente poi a Dio, ecco, sono una serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo poi in silenzio si allontana. E quel concepimento avvenuto per opera dello Spirito Santo nel suo grembo è l'inizio di una storia di amore, di una storia di salvezza, di una storia di pace, e grazie alla disponibilità vera e profonda di Maria, ecco, noi ne siamo destinatari e ne beneficiamo. La disponibilità, ecco, anche con noi Dio vuole fare qualcosa di grande, eccellente. Oggi chiediamo alla Vergine Santissima di aiutarci a avere quella disponibilità, quella convinzione che anche con noi Dio vuole fare qualcosa di buono, di bello. Disponibilità attiva, non passiva. E con l'ora che il Signore ci aiuti a vivere tutto questo, Maria Santissima ci dia il coraggio dello slancio. Un auguri a tutti quanti voi di buona solennità e buona festa di anomastico anche a coloro che portano il nome Immacolata, Concetta e via di seguito. Un abbraccio fraterno e ci vediamo domani per il nostro appuntamento. Grazie. Grazie. Grazie.